Come è andata questa vittoria all'europeo? Nessun combattimento facile, ho vinto i primi proprio all'ultimo, quando era già 6 minuti, secondo finale, il primo combattimento ho vinto di vantaggio, l'ultimo anche era già finita, ho preso il vantaggio per l'ultima azione di lotta. Dopo sono andato alla finale, stanco, ho rischiato tutto, niente, sono andato a prendere la caviglia dell'avversario, ho resistito, ho preso il ginocchio, sono riuscito a fare la finalizzazione, campione con sottomissione alla fine, niente di meglio, era il mio sogno, realizzato, ringrazio voi della Gripis, guardo, è qua, è qua, dopo vado al primo gradino lì con la mia medaglia, grazie a tutti, Forza Italia! Quante ore di allenamento per questo europeo? Ah, non ti so neanche dire, abbiamo fatto tanti allenamenti insieme, fra squadre diverse, squadre amiche, tribe, mille animali, tante persone di squadre diverse, tutti uniti per Italia, il risultato è venuto fuori, fratelli Leteri, primo posto, dopo ancora c'è il mio fratello che combatte nella seno, cintura nera, devo tifare per lui, fare l'allenatore adesso, non posso mica riposare, complimenti, grazie, grazie a tutti, Forza Azzurri!